Buonasera, ben ritrovati su Sportello Reclami. Sportello Reclami in qualche modo torna sul luogo del delitto. Siamo di nuovo ad Arezzo, in Piazza Sant'Agostino. Se vi ricordate, non molto tempo fa, un mesetto circa, eravamo stati contattati da degli operatori economici di Piazza Sant'Agostino, della parte alta di Piazza Sant'Agostino, che c'erano significato i loro problemi. Erano state fatte delle comunicazioni in cui si diceva che qualcosa sarebbe cambiato, che ci sarebbero stati dei contatti. Andrea, buonasera innanzitutto. Allora, dopo il servizio fatto l'altra volta, a fine servizio Alex Revelli ha detto che durante la settimana eravamo stati contattati dal Consiglio Comunale o quantomeno da qualcuno per risolvere eventuali problemi che noi avevamo elencato durante il servizio. A me personalmente non mi ha contattato nessuno. Io sono forse uno degli ultimi arrivati qui, ci sono anche dopo di me, però quantomeno a me non mi ha contattato nessuno. Nessuno mi ha detto niente, quindi io penso che sicuramente sono tutte bagianate quelle che hanno detto, ossia sono cose che non sono reali. Durante le feste natalizie anche le associazioni di categoria ci avevano assicurato determinate manifestazioni nella parte alta della piazza, cose che invece non sono nel modo più assoluto avvenute. Hanno trovato scuse, hanno detto che vi si farà sapere come mai il motivo, hanno dato colpa a quello o a quell'altro, però di consueto, di concreto non c'è niente, nel modo più assoluto. Io ritorno sempre a dire che durante la campagna elettorale tante cose hanno detto in questa piazza, vedrai una piazza vissuta, vedrai di qua, vedrai di là, vedrai se farà manifestazioni, non ci fanno niente. E comunque se devono fare le manifestazioni in una zona, ossia nella parte bassa, dove quantomeno la vivibilità c'è, perché è adiacente a Corsa, adiacente a Via Margaritone, e devono lasciare di fuori la parte alta, allora questa zona che troviamo qui sopra, o ci mettono in mercato, o quantomeno ci fanno rimettere le macchine, perché almeno ci danno la possibilità che qualcuno venga anche da noi, perché fra la ZTL, che ieri venerdì c'era un posto di blocco qua che fermavano anche la centapiedi, fermavano, qua non ci viene più nessuno, perché la gente fuori non trova il posto, perché parcheggi non ci sono, e quindi qua non ci viene più nessuno. Poi avevamo chiesto anche di riguardare il sistema a mercato, quantomeno i tre banchi che sono di là, dalla parte della scuola, dalla parte dell'informa giovani, non c'è viabilità di là, potessero tornare di qua, anche di quello non ci ha dato nessuna risposta. Qui ci sono anche dei rappresentanti del mercato che loro, poi ci potete parlare, vogliono anche loro dire la sua, perché anche a loro è stato detto che siamo noi negozianti di qua che non ci vogliamo un mercato. Non è vero, non è vero, nel modo più assoluto, qui il mercato deve tornare qui come era all'inizio, come quando ne hanno carrucato la piazza, che il mercato è venuto qui davanti, è stato qui, e tutti si respirava un po' d'ossigeno. Abbiamo parlato di mercato, abbiamo con noi Marco, che è uno degli operatori del mercato, insomma anche dal vostro punto di vista i problemi sono tanti, vi sentite un po' isolati e lasciati da parte, senza contatto con le altre realtà della piazza? Certamente, come diceva Andrea, a noi ci avevano detto che erano i negozianti a non rivolere il mercato da questa parte. Ma bene o male, se c'è un po' di passaggio pedonale, è la parte di qua. Noi di là siamo completamente tagliati fuori, siamo tre attività commerciali a girare per cinque giorni, siamo in tre che mettiamo davanti all'asilo. Ma bene o male penso che se li spostiamo di qua, sia con la gente che frequenta i negozi e la gente che frequenta i banchi, è una cosa vantaggiosa per entrambi. Tra l'altro mi dicevi, in realtà non si creerebbero nemmeno dei disagi dal punto di vista, tra virgolette, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica? Ah no, certamente, perché se pensate che il problema sia che questa via qui serve per i mezzi di soccorso e non ci mettono i banchi apposta, è totalmente forviante, perché se considera la mattina per entrare al mercato, alcuni passano di qua, altri, quelli che mettono lì, dove c'è i lampioni, proprio davanti alla fontana, passano dalla parte di dietro, davanti all'asilo. Quindi se ci passano i mezzi per andare a fare il mercato o per entrare nei posti fissi, c'è anche il passaggio per un'ambulanza, invece di fare dritto, fa 50 metri così. O anche in qualsiasi altro mezzo, che sono carabinieri, polizia, un taxi, quello che vuole. L'avete ben capito. La volontà che c'è da parte degli operatori di Piazza Sant'Agostino, soprattutto di questa parte alta di Sant'Agostino, è che si faccia veramente, finalmente, qualche cosa per riportare il passaggio in questa area della piazza. Perché, ha detta loro e li avete sentiti, le cose da fare non sono tante e non sono difficili. Forse basta solo un pochina di volontà per farle. Alex, ti restituisco la linea. Arrivederci.